Il tema del recupero del patrimonio industriale è un tema abbastanza complesso per tutta una serie di motivi che magari andiamo anche a vedere durante la carrellata di queste immagini che facciamo. Forse altro anche perché vi porto degli esempi anche abbastanza concreti avendo appunto seguito sia come prima come fase di ricerca perché io comunque svolgo all'80% la mia attività di ricerca all'interno dell'Istituto per i beni archeologici e monumentali un istituto del Consiglio nazionale delle ricerche e quindi diciamo l'attività è all'80% di natura proprio mirata alla ricerca e poi faccio un po' di professione di architetto perché appunto a seguito di tutta una serie di studi fatti in questi vent'anni circa che mi occupo di patrimonio industriale ne sono poi scaturiti una serie di incarichi professionali perché appunto mi sono occupato in prima persona non so di recupero di frantoi ipogei e non so se avete mai sentito parlare appunto di questo particolare fenomeno che si trova soprattutto nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto dove appunto si produceva l'olio per diversi anni, per numerosi anni ho studiato queste strutture produttive e poi naturalmente quando gli enti locali hanno iniziato a capire anche l'importanza soprattutto legata alla memoria dei luoghi perché a partire dagli anni, dalla fine, diciamo, fine 800, primi anni del 900, 910 insomma più o meno poco prima del primo conflitto mondiale queste strutture ipogei sono state completamente abbandonate e quindi coperte, diciamo, riempite di terra e di quant'altro si è completamente persa la memoria di queste strutture produttive quindi mi sono dedicato molto all'individuazione, soprattutto a fare un lavoro anche di sensibilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni perché considerate che per noi questo fattore della produzione dell'olio, questo fenomeno della produzione dell'olio è stata una peculiarità di straordinario interesse, soprattutto da un punto di vista anche economico perché la produzione dell'olio per noi, per le, diciamo, tre province di Lecce, Brindisi e Taranto e anche poi per Bari è stata una delle principali risorse economiche che abbiamo avuto in Puglia in Puglia e anche nel meridione d'Italia. Comunque, diciamo, questa attività prevalentemente si svolge da un punto di vista appunto della ricerca e un 15-20% legata appunto alla professione. Ho fatto diverse esperienze da un punto di vista professionale, non solo il recupero di strutture olearie ma anche di altri opifici, di altri luoghi legati all'attività, alla produzione. Quindi in questo periodo, diciamo, in questi anni di attività, che comunque, questa è un'altra cosa molto importante che, ricorregandomi anche a quello che diceva prima Fabrizio, è quello che è molto importante e l'attività che va fatta sul campo. Cioè, giustamente diceva, i dirigenti solitamente o quasi sempre o prevalentemente sono seduti dietro una scrivania e non si muovono per andare a vedere la realtà, lo stato dei luoghi. Per noi architetti, la prima cosa da fare in qualsiasi approccio che noi abbiamo nel momento in cui ci chiamano per il recupero di un castello, per il recupero di un qualsiasi bene del patrimonio culturale, la prima cosa che bisogna fare è andare immediatamente a rendersi conto dello stato dei luoghi, di che cosa stiamo parlando. Poi ormai anche la figura dell'architetto, la figura dell'architetto è una figura molto, ma molto... Adesso, diciamo, le competenze devono essere... bisogna avere molte competenze e cercare poi di utilizzare queste competenze specifiche al meglio. Io ad un certo punto, della mia, diciamo, attività anche di ricerca, perché io ho fatto prevalentemente tutta la gavetta all'università e poi sono approdato a vincere il concorso al CNR, ma ho capito subito che per me fare la professione libera, infatti io lavoro solo con le pubbliche amministrazioni, era una cosa abbastanza... che non mi, diciamo, non mi gratificava molto, perché questo fatto di lavorare con i privati ad un certo punto era come se tu stessi andando a chiedere ma per favore mi dai un acconto e devo fare, devo presentare il progetto, devo fare le copie, devo pagare questo... cioè era una cosa molto... che mi dava un po' fastidio, quindi ho, in pratica, concentrato tutta la mia attività di architetto alla ricerca, facendo lo storico dell'architettura e poi ad un certo punto, dopo i primi anni di formazione, che ho studiato l'architettura militare, ho studiato il Liberty, il periodo dell'eclettismo in Puglia, ad un certo punto ho capito che ero molto portato su questo discorso della produzione, delle fabbriche abbandonate, degli opifici, degli stabilimenti, del mondo, insomma, tutto ciò che era legato alla produzione. Ci troviamo anche in un periodo dove molti opifici, molte aziende, molti stabilimenti, molti stabilimenti vinicoli, molte distillerie, molti mulini erano completamente abbandonati, li stavano abbandonando molte aziende, molte famose, ditte famose, aziende famose stavano fallendo, erano fallite e quindi chiudevano i battenti, lasciando un patrimonio straordinario, un patrimonio sia da un punto di vista materiale, quindi le macchine, che da un punto di vista immateriale, le conoscenze, la perdita soprattutto poi della trasmissione dei saperi, e questo vi devo dire con grande anche dispiacere, apro una parentesi per farvi anche capire dove voglio arrivare, per esempio quando ho studiato per circa 5-6 anni l'arsenale militare di Taranto, sapete che cos'è l'arsenale, dove in pratica si facevano le navi da guerra della regia marina militare, sono stato per diversi anni a Taranto per studiare l'arsenale e negli anni a partire più o meno dal 2000-2001 fino al 2007-2008, quando poi abbiamo fatto questo trasfrontaliero adriatico, un interreg, un progetto che è durato 4 anni sull'archeologia industriale marittima, cioè a distanza di 6-7 anni, 8 anni, che io andavo 4-5-6 volte l'anno, 7 volte l'anno, a incontrare, oltre agli ammiragli, i comandanti, i direttori, ma soprattutto a incontrare le maestranze, quello che lavoravano alla forgia, gli operai che stavano a lanci e remi, che facevano la manutenzione alle lance, vele e bandiere, all'officina vele e bandiere, quelli che appunto facevano, e fanno ancora tuttora, perché forse è l'unica ancora che in Italia è rimasta aperta, è rimasta attiva, le bandiere per tutta l'Italia, c'è, vedevo che mano, c'è, anno per anno che andavo a distanza di un anno, magari, non so, stavo nell'officina Calderai, l'anno successivo andavo, non so, all'officina, alla fonderia, e poi ritornavo a distanza di un anno, e vedevo che queste persone erano andate via, questi saperi si stavano perdendo, e in pratica noi stavamo perdendo una memoria straordinaria. Poi anche l'altra cosa, proprio, diciamo, banale, che mi fa molto riflettere, quando insegno ai corsi, addirittura alla scuola di specializzazione in beni archeologici, quando parlo della produzione dell'olio, c'è gente già laureata, non sa come si produce l'olio, o come si produceva l'olio, o come si produceva il vino, o come si produceva, come si moliva il grano, cioè, questo è giusto per dare tre esempi, olio, vino, grano, che sono state per noi pugliesi, per noi del meridione, le tre principali risorse economiche su cui si è basata, c'è proprio la nostra sussistenza, cioè, sono cose primarie dell'alimentazione per mangiare, non parliamo voi di tabacco, che è stato anche un altro aspetto importante, però, dice, come, dice, allora parliamo di, cioè, in pratica, questa memoria che è completamente andata, andata, persa. E il discorso del recupero del patrimonio industriale è anche molto particolare, perché? Perché noi ci troviamo al 99%, 90% dei casi di fronte a strutture di proprietà privata, cioè, le fabbriche, gli opifici, erano tutte private, voi basta, vedete, qua vicino c'è Sianatico, c'è Gaslini, c'è altre cose che andremo a vedere nel pomeriggio, tutte di imprenditori, imprenditori privati. Allora è molto difficile intervenire su delle proprietà private, e, quantomeno, il privato. Io, le ultime cose che sto realizzando adesso, che poi ve le faccio brevemente vedere, erano tutte fabbriche private che i comuni, gli enti locali, hanno acquisito a patrimonio pubblico o qualche fondazione l'ha acquisita e l'ha donata all'ente locale per, appunto, fare questi interventi di recupero di strutture, ex strutture produttive. Nel caso di Bari, dell'Annonario, l'ex frigorifero, mattatoio e mercato ittico, è stato un intervento del comune dove è stato interamente, dove è stata fatta la cittadella della cultura, è stato fatto interamente dal Ministero per i beni e le attività culturali. Non mi ricordo quanti miliardi di vecchie lire è costato l'intervento, ma sono, appunto, casi molto, molto particolari. Io vorrei, un attimo, se c'è qualche domanda da fare, ecco, vi vorrei un attimo, anche così, per farvi vedere qualche esempio di recupero e se avete qualche domanda, interrompetemi volentieri, non c'è problema. Ecco, per esempio, questa è la sede di Italy, che sta a Torino, di fronte all'ingotto. Questo, per esempio, era l'ex stabilimento della Carpano, il famoso Puntemes, quel Vermut famoso negli anni 60 e 70. Anche qua, vedete, in pratica, un intervento tutto privato, fatto da una società, dove c'è appunto Farinetti, e, come vedete, l'interno dello stabilimento, ecco, un'altra cosa, molto, ma molto importante, da tenere presente nel recupero di queste strutture produttive e cercare, possibilmente, di non, a prescindere che lo diceva, anche in quella slide, all'inizio, sul discorso del recupero, cercare, possibilmente, di intervenire in queste strutture con, diciamo, il maggior rispetto possibile, senza alterare, senza modificare lo stato dei luoghi. Questo, purtroppo, io, nei miei vari giri che faccio a destra e a sinistra, in lungo e in largo dell'Italia e anche all'estero, ma prevalentemente in Italia e, dico, anche prevalentemente nelle nostre zone del sud, purtroppo, questi contenitori, che poi diventano solo ed esclusivamente dei contenitori, vengono completamente svuotati per fare spazio alle nuove destinazioni d'uso e questo, purtroppo, poi noi non possiamo più parlare di archeologia industriale, ma vogliamo solo parlare di, tra virgolette, forse di architettura industriale, se è rimasto solo il contenitore, che nel momento in cui noi, all'interno di un'ex fabbrica, di un ex opificio, togliamo le macchine, lo svuotiamo completamente di ogni, diciamo, della propria natura, cioè noi, per noi, un contenitore che era una fabbrica di mobili o una un qualsiasi tipo, che si svolgeva un qualsiasi tipo di attività, si tolgono le macchine, cioè non si lascia la testimonianza dei luoghi, quel contenitore poteva essere una birreria, una fabbrica di birra, poteva essere una distilleria, poteva essere uno stabilimento oleario, poteva essere un'officina meccanica. Se noi lasciamo qualche testimonianza, se tutto non lo possiamo lasciare, perché anche le macchine, anche il recupero delle macchine hanno un suo costo ed è anche molto alto, ed è anche molto alto, poi vi faccio vedere un esempio di una filanda in Calabria, dove abbiamo fatto un ecomuseo, ci sono costate più il restauro delle macchine che il restauro strutturale, però è importante, vedete in questo caso i contenitori dell'alcol, i silos dell'alcol, oppure in uno stabilimento vinicolo che vengono distrutti i fermentini, quelli realizzati intorno agli anni venti, dove veniva depositato il vino per la fermentazione, cioè cercare possibilmente di lasciare, cercando anche di scendere a compromessi in una fase progettuale, ma cercando almeno di lasciare la possibilità, cioè la testimonianza dei luoghi. Questo è il museo, quindi sotto avete visto sono Italy, questo poi la parte che porta al primo piano dove hanno allestito tutto il museo della Carpano, molto bello, molto suggestivo, perché hanno in pratica ricostruito tutto stanza per stanza tutta la storia del Vermouth. Qua siamo di fronte, vedete il Lingotto trasformato in centro congressi, fanno la fiera del libro, la fondazione Agnelli, il L'Emeridien, un albergo, la bolla sopra, ecco qua siamo in Spagna, siamo a Terrassa e a 30 km da Barcellona, questa era un'ex fabbrica tessile che è stata trasformata in il museo della scienza e della tecnica della Catalunia, dove all'interno quando la fabbrica del 1906 è stata in pratica abbandonata e hanno recuperato vedete la caldaia che serviva per alimentare le macchine, la macchina a vapore, quindi loro hanno recuperato all'interno tutte le macchine vedete le pulegge una carda una delle tante carde che ci sono che c'erano all'interno i telai i filatoi e hanno allestito questo importante museo qua stiamo a Prato la cimatoria la cimatoria è una fabbrica che serviva per tagliare il pelo della lana e come sapete Prato è stato adesso purtroppo su tutti i cinesi il più importante centro dell'industria tessile italiana era Prato e Biella in Piemonte dove venivano fatti tutti i tessuti e questa era una cimatoria una fabbrica molto ma molto grande dove è stata realizzata scusate del 1896 è stato realizzato una parte il museo del tessuto e una parte una biblioteca multimediale queste sono ecco vedete anche qua hanno recuperato la caldaia che alimentava tutte le macchine e tutta una serie una gualchiera un telaio orizzontale e tutta una serie di di telaio questo è il recupero fatto in Calabria era un'ex Filanda del 1907 siamo a Civita dove c'è la comunità italo alberesce del Pollino dove si parla l'albanese e questo è un pisse una rete ecologica e vedete è una zona siamo nelle gole del Pollino cioè alle gole del Raganello nel Pollino dove c'era in pratica questa struttura che in origine era un mulino ad acqua perché vedete c'era tutto il corso dell'acqua qua si raccoglieva in queste vasche di accumulo l'acqua si aprivano le chiuse e alimentava il mulino a un certo punto viene impiantata la Filanda viene impiantata la Filanda il mulino viene portato giù a valle e viene in pratica in questa struttura eccola qua realizzata questa Filanda con un self-acting un filatoio del 1888 e poi con i divisori le carde l'arcolaio è alimentata vedete con la ruota idraulica che veniva appunto da qua abbiamo realizzato questo eco-museo naturalmente lasciando all'interno come vedete tutte le macchine creando una serie di pannelli con un percorso di visita secondo come avveniva il processo produttivo della della Filanda per poi arrivare al sottostante mulino vedete appalmenti questa è la parte di sopra e la ruota orizzontale alimentata dal questo era il fondatore e questa è la Filanda negli anni settanta quando l'ultimo periodo che è stata utilizzata per la produzione della lana naturalmente questa nasce perché era una zona ad alta pastorizia quindi viene utilizzato tutta la lana che veniva appunto tagliata alle pecore veniva venduta a questi filardi che erano che avevano la la Filanda e la filavano e poi la vendevano vedete a rocchette per poi fare le maglie di lana per fare insomma indumenti di lana ecco qua stiamo in Puglia questa è la nonario che conoscete benissimo la manifattura tabacchi e anche questo è un intervento fatto un po' di anni fa dove tutta una parte è sede del mercato ortofrutticolo e il resto invece è dell'università qua stiamo nel Salento un'ex conceria era un'area all'interno del centro storico di Maglie che a seguito di questi lavori di recupero che hanno iniziato a fare sono uscite tutta una serie di vasche e in pratica si sapeva che era un centro dove si praticava molto la concia delle pelli e si è continuati a scavare e sono uscite tutta una serie di vasche dove appunto avveniva il trattamento delle pelli è stata recuperata filologicamente come vedete uno dei recuperi penso più belli in assoluto che è stato fatto nel meridione d'Italia questo è un intervento prettamente privato fatto tutto da un privato una cosa rarissima vedete l'edificio è del Cinquecento con poi successivamente la parte soprastante fatta nell'Ottocento e in pratica su questa su questo prospetto all'interno c'è tutta questa vedete tutta la la conceria l'ex conceria che si sviluppa dove adesso fanno presentazioni di libri convegni mostre diverse insomma attività oltre che ad essere un museo se vogliamo perché appunto si vede tranquillamente tutto perché è tutto in cristallo acciaio e legno come vedete sono state recuperate tutte le canalette dell'acqua perché in pratica vedete con le tubazioni e quindi poi tutti i corsi d'acqua qua va nella cisterna perché l'elemento principale per la lavorazione delle pelli era era l'acqua questo è il magazzino ex Montecatini di Brindisi che sarà destinato a terminal sul seno di Sant'Apollonio a Brindisi era un capannone lungo 220 metri per 45 di larghezza per 21 di altezza tutto in pino rosso della Slovenia purtroppo all'80% il legno originario era completamente marcio e 7-8 anni fa più o meno circa è stato fatto un intervento di recupero da parte della soprintendenza sostituendo tutto il legno che si era marcito questa siamo a Lecce sono le ex officine Cantelmo anche questo è un intervento molto diciamo molto bello di una ex fabbrica dove facevano i letti in ferro battuto e questo è un intervento del comune e adesso è un student center dove il comune ha fatto un accordo con l'università e quindi lo utilizzano per incontri insomma è un polo anche universitario dove c'è molti studenti che lo frequentano perché appunto si svolgono molte manifestazioni anche legate all'università questo è il museo ferroviario è un'altra struttura sempre a Lecce alle spalle della stazione queste sono le officine dell'ex squadra rialzo le officine ex squadra rialzo erano le officine dove facevano la manutenzione dei treni qua alcuni anni fa penso una decina di anni fa venne a fare un concerto anche Claudio Baglioni che se non ricordo male nel 2004 lui si è laureato con Giovanni Carbonara in architettura facendo una tesi sui gasometri al testaccio a Roma e quell'anno del 2004 fece questa tournée spazi nuovi per uomini nuovi e scelse come località per fare il concerto lui scelse 5 6 7 città italiane per fare dei concerti all'interno dei luoghi dismessi di produzione e scelse lecce e gli facemmo vedere alcune location alcuni siti ex siti industriali e gli piacque molto questo museo ferroviario perché considerate che queste due locomotive a vapore del 1904 sono le uniche ce ne sono una o due esempi altri in Italia e fece questo concerto solo per i giornalisti per promuovere appunto questa sua tournée questo è un villaggio per la produzione del tabacco un villaggio operaio che è stato ristrutturato e adesso viene utilizzato come villaggio turistico ecco il discorso della memoria in questo in questo villaggio se viene una persona del nord ma ritengo anche diciamo persone diciamo nostre del pugliesi non identificano il luogo in cui era destinato questo questo villaggio perché lo hanno completamente restaurato hanno fatto tutte piccole suite poi vi faccio vedere dopo vedete la planimetria erano sono 300 ettari di terreno che questo imprenditore nel 1918 acquistò era tutto pieno di di pietre dissodò tutto il terreno e impiantò la coltivazione del tabacco creando questo villaggio operaio tra cui ritengo forse unico nel suo genere in Puglia dove realizzò 50 abitazioni monofamiliari dove risiedevano ogni nucleo familiare perché ognuno poi era destinato a lavorare il tabacco era un villaggio autosufficiente vedete la chiesa fatta negli anni 30 questa era la casa colonica del colone questa era l'abitazione di Giovanni Greco qua c'era la la scuola poi c'erano il frantoio il mulino un piccolo palmento per la produzione del vino insomma era un villaggio autosufficiente e questo vedete è il magazzino dove avveniva la prima trasformazione del tabacco queste sono le tabacchine questa è una foto degli anni 30 come anche sopra vedete questa addirittura è una foto proprio degli anni 25 26 vedete tutti i telaietti dove veniva steso il tabacco per l'essiccazione in pratica è stato completamente trasformato senza lasciare nulla che abbia a far pensare alla lavorazione del tabacco questo è il magazzino di tabacco vedete il magazzino questo che è stato trasformato in albergo e poi le abitazioni le case a schiera hanno fatto due livelli con una scala a chiocciola fare delle suite poi hanno realizzato la piscina e così via questi sono questo è un altro magazzino per la lavorazione del tabacco utilizzato come casa dello studente sotto un ex sansificio per la trasformazione della sansa che è utilizzato come casa di moda ecco queste sono le strutture per la produzione dell'olio le ipogee e vedete quando li abbiamo recuperati perché erano completamente pieni di terra fino a questa altezza considerate che noi stiamo al di sotto di circa tre metri tre metri e mezzo rispetto al piano di calpestio e quindi in pratica dai fori che c'erano quasi sempre in corrispondenza della vasca per la molitura e tutte queste nicchie che erano i depositi per le olive che venivano buttate dall'alto dal piano di calpestio e cadevano direttamente nei depositi cioè queste qua in pratica li hanno completamente tutti riempiti di terra quelli che diciamo molti li hanno riempiti di terra il resto li hanno completamente distrutti questo è uno dei recuperi fatti solitamente si trovano al centro delle piazze dei paesi perché appunto erano posizionati in un posto dove arrivavano con i carretti per scaricare le olive all'interno della struttura questo è un altro semi-ipogeo vedete all'interno c'erano tutte le presse idrauliche con la vasca e quando è stato recuperato abbiamo realizzato un torchio alla calabrese e un torchio alla genovese per fare vedere anche poi l'evoluzione tecnologica che c'è stata prima di arrivare alle presse idrauliche la parte soprastante che è questa qua che era adibita a deposito per l'olio con delle grandi vasche che poi purtroppo non le abbiamo trovate perché sono state portate via l'amministrazione comunale ha voluto collocarci questo museo della radio per chi avendo acquistato una collezione di oltre cento radio ha sistemato questa collezione questa è una distilleria dove sto facendo questo museo dell'alcol in pratica questa è diciamo questo è già un museo perché questa distilleria da quando è stata chiusa in pratica nel 2000 è stata sottoposta a sequestro giudiziario come vi dicevo essendo di proprietà privata i proprietari sono falliti hanno messo i sigilli hanno fatto l'inventario e quindi è andata all'asta e l'asta è durata circa dieci anni io nel frattempo nel 2005 l'ho fatta diventare monumento nazionale perché l'ho vincolata perché avevo paura che potesse andare in mano a proprietà privata e quindi non si sa mai che cosa siccome stiamo parlando di una superficie di due ettari e qualche cosa di cui quasi 7000 metri quadrati coperti e vedete questo è il è il prospetto principale è una è una distilleria che poi vedete dalle planimetrie ha quattro affacci su diciamo quattro strade su tre strade e su una piazza quindi era anche molto appetibile dal punto di vista degli imprenditori privati l'asta si è conclusa un anno e mezzo fa circa è stata acquistata da una fondazione che l'ha donata al comune comune abbiamo presentato un progetto con la rigenerazione urbana e adesso abbiamo iniziato i lavori di recupero del giardino storico che è questo qua perché è la parte diciamo meno dove adesso possiamo con 500 mila euro iniziare a fare il primo intervento perché poi tutto il resto è abbastanza più oneroso anche perché ci sono ambienti molto ma molto ci sono delle capriate in legno che vanno recuperate quindi i costi sono molto alti vedete questo è l'interno della distilleria con dentro ancora tutto queste sono alcune pubblicità dei liquori ecco questo è il è la fabbrica questa è la parte del nucleo antico il nucleo più vecchio e poi mano a mano i vari diciamo i vari ampliamenti questa è una strada questa è l'altra qua c'è l'altra e qua c'è la piazza ecco vedete sono 2200 2200 2 ettari e mezzo quasi 2 ettari e qualche cosa e circa 7000 metri quadrati noi adesso stiamo in pratica recuperando tutto il giardino storico con tutta questa parte qua per fare un parco un parco pubblico collegato con la parte di dietro e poi attraverso questo passaggio eccolo qua per uscire sulla parte davanti non avete pensato a un recupero anche del giardino storico sì il giardino storico lo stiamo come era come giardino storico sì sì c'è il botanico allora un attimo vediamo se si vede meglio da qua no allora terra noi abbiamo trovato eccolo qua eccolo qua allora c'erano vabbè innanzitutto c'era una vegetazione che era perché consideri che questi fino al 99 hanno fatto liquore però la parte di dietro era completamente cioè non la usavano più perché la distilleria la distillazione l'hanno fatta sino al 1988 e con la torre di distillazione dove c'era quell'impianto che abbiamo visto all'inizio un frilli del 74 e quindi loro hanno distillato fino agli anni 82 83 poi naturalmente era ormai non è più conveniente distillare quindi conviene comprare l'alcol e fare il liquore loro fino al 99 hanno prodotto liquori ma la parte retrostante è stata completamente abbandonata noi avevamo 50 60 cm di terra e poi tutta la vegetazione possibile immaginabile che c'era abbiamo iniziato i lavori abbiamo fatto pulire tutto quanto il perché qua ci sono tutta una serie di colonnine in pietra leccese che delimitavano il perché questa parte qua su questa parte qua venivano rotolati i fusti metallici perché vedete questa è via ferrovia perché questo ingresso era direttamente collegato con la stazione ferroviaria loro rotolavano i fusti metallici per vendere perché per l'alcol perché San Cesario ha dato l'alcol al rosso antico famoso la Buton vecchia Romagna Sarti bianco Sarti c'erano 5-6 grosse ditte del nord che compravano l'alcol da San Cesario per fare i liquori e quindi loro avevano queste soprattutto tre di queste cinque distillerie erano proprio direttamente collegate con la stazione ferroviaria quindi noi stiamo anche recuperando questa diciamo questa passeggiata che prima appunto serviva per portare diciamo per rotolare i fusti per vendere l'alcol adesso per fare riappropriare anche un attimo la cittadinanza perché su 4.000 abitanti quando c'erano in funzione tutte e 5 le distillerie c'erano ogni distilleria mediamente aveva dai 40 ai 60 operai quindi considerate che forse un buon 30% o 40% della popolazione era tutta gente che aveva gente che lavorava all'interno della distilleria comunque questo più o meno è diciamo il progetto che adesso stiamo facendo la progettazione esecutiva per recuperare appunto questa vedete è un bellissimo ambiente lungo 25 metri tutto quanto coperto con le capriate in legno dove ci sono tutte le vasche dove venivano lavate le vinacce ed è una struttura che solo per recuperare questa cosa qua parliamo di 700-800.000 perché tutta quanta con queste capriate in legno bellissime questo è un altro un altro edificio molto molto interessante molto bello è un edificio Liberty del 1919 era un'ex fabbrica di mobili e poi nel 1935 è diventata magazzino di concentramento dei tabacchi greggi del monopolio di stato questa era una famiglia di ebanisti erano cinque figli questi famosi piccino di maglie erano i mobilieri dei dei Savoia mobiliere di lo stemma della real casa erano i mobilieri di benedetto quindicesimo hanno fatto i mobili a palazzo madama ma era una una famiglia di ebanisti molto ma molto conosciuti in tutta Europa e hanno realizzato questo edificio appunto progettato nel 19 in funzione già a partire dal 22 il monopolio lo acquista dal fallimento nel 34 nel 35 sistema ci fa il il magazzino concentramento e ci costruisce un corpo di fabbrica avanti che serviva per uffici servizi genici e così via il comune lo ha chiesto al demanio dello stato perché questo era nell'elenco dei beni da cartolarizzare e gli è stato concesso gli è stato dato incomodato d'uso pagando un canone annuale hanno avuto un primo finanziamento abbiamo iniziato i lavori di recupero vedete i lavori di pulizia della facciata abbiamo demolito tutte le superfetazioni fatte in durante il periodo del monopolio l'unica cosa lasciata sono questi shed fatti nel 57 per testimoniare appunto il periodo d'uso della fabbrica di di tabacco vedete queste erano tutte le celle di essiccazione dove veniva essiccato il tabacco fatte all'interno del cortile ora vediamo le planimetrie e poi vedete tutto il recupero delle travi delle putrelle in ferro con le coperture in mattoni ecco questo è il periodo in cui è stato utilizzato come magazzino di tabacco in pratica il monopolio ha realizzato questo corpo qua che occultava la facciata la facciata originaria ecco queste sono sono le planimetrie dello stato di fatto e poi all'interno stiamo realizzando questo museo del patrimonio industriale di terra d'otranto diviso naturalmente per sezioni c'è una parte multimediale in pratica in pratica abbiamo restituito il suo assetto originario demolendo in pratica tutta questa parte qua qua è l'ingresso con una poi una facciata tutta quanta in cristalli e poi questa è la parte multimediale questa è una sala conferenze questo è il giardino scoperto e qua invece c'è tutta la parte dedicata alla città di Maglie industriale perché Maglie era un centro molto importante perché quando nasce la linea ferroviaria la Bologna Otranto nel 1862 nel 1874 viene istituita la stazione di Maglie e quindi il tronco Maglie Otranto ma soprattutto attraverso Maglie passa tutto il commercio che prima stava da un punto di vista fluviale a Gallipoli quindi attraverso il porto di Gallipoli si sposta tutta quanta a Maglie su rotaie e quindi diventa un grosso centro industriale quindi ricostruiremo tutta la Maglie industriale questo è tutto il blocco servizi questa è la segreteria e poi qua c'è il bookshop è il punto questo è un percorso questo è il prospetto diciamo il prospetto principale e queste sono appunto poi tutta una serie di aziende che sono collegate al museo per fare una un collegamento a rete anche con le aziende produttive di terra d'Otranto in questo caso stiamo a Maglie stesso con il pastificio Cavalieri un noto pastificio uno dei cinque pastifici più importanti che ci sono in Italia la distilleria il licorificio Cappello il saponificio Labbate questo di che vi parlavo prima a Fasano Cantine Santa Barbara queste sono alcune aziende che hanno già aderito al progetto del museo a rete del patrimonio industriale questa è la parte diciamo ormai anche se vecchia perché questo è il progetto fatto nel 2007-2008 con i finger mouse interrogabili a distanza ma ormai le tecnologie sono vecchie ci sono alcuni pannelli olografici queste le attività produttive di terra d'Otranto prego sì da questi casi studio diciamo tutte le funzioni comunque il recupero dei manufatti ha avuto come finalità quello della musealizzazione da un punto di vista diciamo di cosa di come riutilizzare cioè di come far rivivere gli ambienti interni e che siano stati quasi tutti a carico del pubblico cioè di un ministero oppure del comune di enti locali di enti locali è che la musealizzazione magari per quanto riguarda il processo produttivo che prima veniva svolto all'interno e oppure come nell'ultimo caso delle concerti Lamarck Lamarck quello è l'unico privato che fungano da rete o comunque per rendere visibili e promuovere le attività che sono legate a quel ciclo produttivo ma che cosa succede quando invece il pubblico non riesce a sostenere queste spese e questi edifici che comunque si trovano tutti in area pressoché urbana cioè si trovano tutti all'interno di studio urbano certo a parte il ruolo di musealizzazione che altri ruoli possono svolgere in maniera attiva rispetto alla città guarda l'altro esempio per esempio l'altro esempio sono sono le officine Cantelmo quello non è non è un museo quello è uno student center cioè è un una specie di biblioteca una specie di dove si incontrano tutti gli studenti la sera fanno concerti c'è l'info point c'è i collegamenti internet c'è una sorta di servizio alla popolazione studentesca di Lecce che si incontra in queste ex officine e quindi la utilizzano come come spazio poi prevalentemente diciamo almeno i casi che io ho su cui sto lavorando ti trovi già con all'interno tutte le attrezzature tutta la roba cioè vabbè tranne il la fabbrica di di mobili vabbè non c'era niente perché essendo fabbrica di tabacco ma non c'era niente manco al di là delle delle celle di essiccazione tutte quante fatte in muratura e basta è una caldaia anche poco come devo dire anche da tenere era un contenitore e basta ma in alcuni casi tipo o i frantoghi o la distilleria dei Giorgi o il mulino scoppetta o altre cose che all'interno ci sono tutte le macchine cioè dico sono già delle destinazioni naturali che puoi e un il caso è diverso nel momento in cui tu hai il centro annonario no o non so hai gaslini hai che so un ex tipo Carpano a Torino e quelli che cosa hanno fatto la Carpano ha voluto va bene io vi do l'area però sopra devo fare il museo dedicato all'azienda sotto facciamo quello che volete e si sono inventati Italy no oppure ad Abbadia San Salvador vicino Siena tra Montepulciano Sarteano c'è il museo di del Mercurio cioè quella era una miniera dove veniva estratto il Mercurio dove una comunità una popolazione si identificava perché ci lavoravano centinaia di persone e loro che cosa hanno fatto hanno recuperato tutte le vecchie i vecchi caseggiati allora una parte ci hanno fatto il museo un'altra parte hanno fatto aule didattiche per le scuole e una parte penso circa non so 7-800 metri mille metri visiti la 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 miniera ma questo terraza in Catalunia e il museo è l'antenna cioè in pratica è il punto diciamo dove la biglietteria chiamiamola in termini diciamo di archeologia industriale diciamo un'antenna dove da questa antenna si parte un sistema a rete di musei di 42 musei del patrimonio industriale sono tutti musei in sito cioè fatti non so il museo del sale il museo della miniera il museo delle pietre dei monili preistorici addirittura ti portano 30 40 50 100 metri sotto terra dove estraevano le pietre preziose per fare i monili che poi venivano utilizzati per fare le collane in età 2000 3000 avanti cristo tutta una serie di una rete di musei del patrimonio industriale ma prevalentemente fatti in sito la cosa è diverso se noi abbiamo un'area completamente nuova su cui intervenire e allora magari se fai un altro tipo di 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 essere le più creare anche una impresa cioè fare laboratori fare non so per esempio molti molti spazi soprattutto nel nord nella zona di Milano vengono utilizzati come atelier per esempio per la moda se non ricordo male Armani sta in un in un ex costo industriale cioè è ovvio che dove c'è all'interno ci sono le macchine in quel frantoio semipoggeo dove c'è il museo della radio loro hanno voluto sopra fare questo museo perché avevano questa collezione servivano degli spazi e quelli si prestavano bene ma per esempio sotto nonostante abbiamo lasciato le presse idrauliche abbiamo realizzato i due torchi in legno per fare vedere quello viene utilizzato come contenitore culturale dove si presentano libri si fanno mostre si fanno attività diverse per quanto riguarda per esempio l'individuazione di una nuova funzione che ne so servono dei laboratori didattici per dire è il manufatto si potrebbe prestare per quanto riguarda gli spazi a disposizione però potrebbe giocare un ruolo chiave e in questo la ricerca appunto sulla storia del manufatto aiuta anche nell'individuare quella particolare funzione in quell'edificio per quanto riguarda la posizione urbana che quell'edificio ha perché storicamente magari era collocato lì perché era per esempio per attività produttive era vicino alla stazione era vicino sia un sistema di trasporto oppure era vicino a una zona della città che era salubre o che non per le attività svolte non intaccava poi la salubrità delle aree residenziali e questo tipo di ricerca che appunto viene svolta per un punto di vista storico sul manufatto può aiutare poi nella fase della progettazione per individuare delle nuove funzioni di quei manufatti ma guarda io vi dico subito tra l'altro essendo uno storico dell'architettura non posso dire diversamente ma questo vale per qualsiasi tipo di di manufatto anche se un castello una chiesa cioè secondo me il primo approccio che devi fare è quello storico cioè non bisogna assolutamente prescindere da nel momento in cui ti siedi dal punto di vista progettuale che devi iniziare a fare a progettare se tu prima non conosci bene la storia del del manufatto secondo me è inutile proprio cioè io ho visto distruggere numerosi frantoi ipogei da colleghi ingegneri o colleghi architetti perché non sapevano che cos'è il postetto di decantazione ah vabbè oppure altre altre cose altre fabbriche perché se non conosci la storia e soprattutto non conosci il tipo di attività che veniva fatto all'interno che veniva fatta all'interno poi dico può anche aiutare no il diciamo se abbiamo una nuova destinazione ed uso a perché a non riprendere magari anche qualche attività che c'era all'interno adesso quello che è molto importante io ho capito anche la domanda tua cioè il problema dei musei adesso è la gestione e non a caso adesso ormai vedi tutti i bandi che escono adesso della regione quelli legati gli ex pop programma operativo plurifondo vabbè a voi non dicono niente perché siete troppo giovani o il programma operativo regionale i primi finanziamenti che sono arrivati con la comunità europea per il recupero di beni culturali cioè prima si faceva un progetto preliminare si consegnava la scheda uno quindi ne faceva tre, quattro, cinque ogni comune ne finanziavano due, tre davano questi finanziamenti a pioggia poi in pratica si facevano quelle cose tra virgolette le cattedrali nel deserto si recuperava e non si sapeva la destinazione d'uso a cui era poi finalizzato cioè nel senso che veniva recuperato vabbè, finito il recupero beh, adesso che cosa ne facciamo? adesso ormai non è più così adesso ormai progetti esecutivi esecutivi piano di gestione e soprattutto destinazione d'uso sono non ti finanziano proprio le le a prescindere che adesso ormai fare un progetto io mi sto facendo la rigenerazione urbana a San Cesario che sono quei tutto quel programma che ha promosso la Barbanente no? ma ci sono più a prescindere tutti gli step che progetto definitivo poi progetto esecutivo poi verifica poi questo e poi mettono dei paletti fissi che se tu malauratamente diciamo sfori quel paletto rischi che quando verificano l'attendibilità del progetto non ti riconoscono l'ultima parte del finanziamento e quindi rischi che li devi poi restituire oppure non te li danno e quindi devi pagare poi l'impresa ma adesso ormai una cosa importante soprattutto quando noi parliamo di musei è proprio la gestione allora noi in queste operazioni San Cesario Museo dell'Alcol e questo Museo del Patrimonio Industriale stiamo dando anche per esempio a San Cesario siccome c'è tutta una una grossa fascia di vabbè è in fibrocemento fatta negli anni 57-60 quindi noi stiamo conservando la cubatura all'interno ci sono dei grandi silos di ferro che devono essere tutti quanti tagliati e rimossi e la vorremmo fare una serie di laboratori artigianali di qualità tra cui stiamo convincendo e l'abbiamo anche in parte convinto che lui ha detto beh a me servono 500 metri quadrati di trasferire questo questo liquorificio che è l'unico attivo che si è spostato fuori il paese sempre per un problema di fumi cose varie quando si distillava lui si è trasferito fuori starà a 2-3 km dal paese di San Cesario e fa i liquori limoncelli e cose varie allora gli abbiamo detto ma lui ha detto che si trasferisce là dentro per la produzione dei liquori poi c'è un'altra pasticceria molto famosa molto importante che fa delle cose molto buone sempre a San Cesario e ha detto che lui prende 200 metri quadrati cioè noi stiamo cercando anche di trovare 6-7 attività di un certo livello però alto tipo appunto il liquore i dolci la carta pesta per fare dei laboratori artigianali all'interno affinché almeno pagando per dire 1000 euro 2000 euro all'anno 5000 euro all'anno riusciamo almeno per concorrere a quello che poi sono i costi di manutenzione la biglietteria perché ormai i musei al 99% sono tutti quanti in passivo tranne se tu non parli degli uffizi che sono o non so al Vaticano alla Cappella Sistina che ci hanno 200 mila persone al mese e vanno a visitarlo altro c'è qualche altra domanda non so se a che punto sto con le poi queste sono le varie diciamo sezioni del museo ecco queste vedete i mobili che hanno fatto per il re ok se ci sono altre domande grazie 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 a tutti